32 i fratelli dello spazio i fratelli dello spazio attraverso vanda a cura di vb una forza prorompente in te una gioia che fa quasi dolorare il tuo essere e ti porta a raggiungere altezze subliminali dunque figlia sorella tu stai vivendo un momento magico della tua vita si stanno innalzando la tua fede e la tua ferma fiducia nella vita e credere fermamente nella vita non vuol forse dire credere con tutta te stessa nel tuo dio nella forza cosmica in questo insieme di energia pura che pervade tutta la creazione cos'è se non la potenza di un tutt'uno che mantiene l'equilibrio di un così grande creato vuoi tu sorella e voi tutti fratelli umani riconoscere questa grandezza come potete vivere in un mondo così meravigliosamente arcano senza sentirne la risonanza senza esserne presi e godere delle sue meraviglie perché fratelli umani la vostra coscienza si è inabbissata nella profondità della materia anche il vostro cammino spirituale sarebbe perfetto se non vi lasciaste prendere dall'egoismo e dalla volontà di supremazia su tutto ora vi lanciate a scrutare sugli altri pianeti perché volete cercare il significato della loro vita delle loro esistenze avete ancora una mentalità troppo piccina e avete tuttavia la pretesa di scoprire tutto quanto vive e pulsa nel cosmo ma lo fate nel modo più arrogante come se foste i padroni dello spazio siete invece piccoli nella grandezza piccoli nel non comprendere un piccolissimo mondo con tanta arroganza e la pretesa di capire e scoprire tutto ciò che già esiste quanto siete lontani dalla vera realtà mettete più umiltà nelle vostre scoperte salve dai tuoi fratelli cosmici salve